Allora, con il famoso titolo di una famosa canzone degli anni 50 di cui vi alleggo il link nella descrizione del video See you in settembre, ci vediamo a settembre Sì, sì, perché adesso ci aspettano tre mesi di caldo che tocca accendere l'aria condizionata Poi vari altri problemi, insomma, farò tre mesi di pausa e ci rivediamo a settembre Con che cosa? Con solite recensioni si accumuleranno Magari continuerò a guardare nel web quello che c'è di curioso E ci sarà un bel elenco di cose che poi riuscirò a tirare fuori al ritmo di due o tre volte a settimana in settembre E appunto, nel frattempo ci sono centinaia di video che magari non avete visto Andate sugli indici e li andate a scovare in attesa che ci rivediamo a settembre Bye!